carissimi amici ben ritrovati sul mio canale presento il terno show un terno secco due ruote fisse un solo colpo di gioco particolarità di questa previsione sta nel fatto che giocheremo a colpo secco sempre un terno su una ruota e un terno sull'altra ruota si gioca a colpo secco nuova previsione dopo ogni estrazione oppure conferma della stessa se chiaramente rimane valde in base all'analisi dell'ultimo quadro estrazionale do solo tre adesioni perché così basse perché purtroppo con questo tipo di giocate le adesioni devono essere basse le persone che devono giocare questa previsione con me devono essere pochissime perché poi si va ad incorrere nei soliti meccanismi di lottomatica che soprattutto in giocate così ristrette che siano di ampio che siano di terno se vengono giocate da troppe persone poi sappiamo quello che succede ed è una realtà ed è un dato di fatto da me testato questo terno da spettacolo veramente su due ruote fissi a colpo secco in una maniera incredibile molto spesso nella statistica ha pagato anche il doppio terno a colpo quindi attenzione perché un terno potentissimo che dobbiamo assolutamente giocare tutti insieme a colpo o la va o la spacca parliamo veramente di uno studio unico fantastico che io spero possa continuare a dare i risultati che ho ottenuto finora l'adesione unica come sempre senza scadenza quindi si fa l'adesione adesso l'adesione senza scadenza senza limiti per sempre quindi avrete per sempre la giocata ma attenzione chi aderisce al terno show avrà in omaggio ben cinque miei metodi spia specialissimi da giocare per ambo eterno su unica ruota quindi vi vado a omaggiare di cinque favolosi metodi spia validi per sempre e le mie spie sapete che sono imbattibili velocissimi perché darò solo tre adesioni contattatemi o via mail o via whatsapp numero 348 7547715 e gli esiti sono stati veramente incredibili negli ultimi mesi e proprio sulla base di questo che conto che potranno esserci ancora delle bellissime soddisfazioni vincenti chiaramente al gioco dell'otta non c'è certezza di vincita la statistica lo dico sempre come lo dico a tanti di voi in privato è una base di gioco per iniziare a giocare ci dà una come posso dire ci dà una base ci dà una certa sicurezza nel poter giocare chiaramente non ci garantisce la vincita però ci dà delle buone probabilità quindi mi raccomando perché è una giocata molto forte questi sono gli ultimi esiti ottenuti da giugno 2021 e ha pagato un sacco di vincite tante volte la giocata è baricagliari tante volte ha dato anche il doppio terno molto spesso ogni mese è capitato almeno una volta che ha dato il doppio terno a settembre ad esempio lo ha dato in data 8 settembre proprio il doppio terno quindi attenzione perché è veramente una giocata fenomenale queste sono tutte le vincite le ultime vincite ottenute l'ultimo terno a bari il 14 settembre 54 28 21 e quindi spero che possano continuare questi bellissimi esiti ecco perché tengo le adesioni così basse i più veloci tre adesioni poi chiudo il servizio le adesioni che ci saranno avranno in omaggio i miei cinque metodi spia speciali a ruota unica quindi attenzione alterno show perché è veramente qualcosa che darà spettacolo a ruota secca per adesso saluto a tutti di visita su bancolotto